Ci siamo ormai per vedere Matis Delic di indossare la maglia della Juve potrebbe essere soltanto questione di tempo. Se inizialmente il destino del gioiellino della difesa dell'Ajax sembrava essere già scritto con l'approdo a Barcellona o eventualmente a Parigi tra le fila del Paris Saint-Germain, ora la situazione è totalmente opposta. Indiscrezioni provenienti dalla Spagna non lasciano spazio di interpretazioni, l'operazione è infatti praticamente chiusa. A proposito di operazione nel contratto che Delic firmerà con i bianconeri ci sarà anche una clausola recissoria? Non resta ora che aspettare. La divisione anticrimine della questura di Milano ha eseguito mercoledì mattina un sequestro di beni nei confronti di Luca Lucci, 37 anni, capo ultra della curva sud del Milan, finito in passato nei guai per traffico di droga. Diventato famoso dopo la foto con Matteo Salvini e la festa degli Ultras Rossoneri, Lucci era stato arrestato a maggio del 2018 per spaccio di stupefacenti e aveva poi patteggiato un anno e sei mesi di pena. A seguito degli accertamenti patrimoniali, si legge in una nota ufficiale della questura, è emerso che il 37enne traeva le sue principali fonti di sostentamento dal traffico degli stupefacenti. Di conseguenza, proseguono gli investigatori, è stato disposto il sequestro di un complesso immobiliare di recentissima costruzione di due piani con autorimessa, di un'autovettura modello Audi Q5, dei conti correnti e della gestione di un locale pubblico, luogo storico di ritrovo degli Ultras del Milan, il clan 1899 a Sesto San Giovanni. Milanesi, tifosi di Inter e Milan da tempo sono divisi su una questione ben precisa, il destino dello stadio San Siro. L'impianto che ha fatto e dove soprattutto si è scritta la storia del calcio si appresta a rinnovarsi. Per farlo ovviamente però bisognerà prima demolirlo, passaggio che non piace proprio per niente alla stragrande maggioranza. Da qui la proposta del presidente del municipio 7 di Milano, Marco Bestetti, che prevede addirittura un referendum cittadino. Tutti i sondaggi dicono che oltre il 70% dei milanesi è contrario ad abbattere San Siro, spiega Bestetti. Presenteremo al Collegio dei Garanti una proposta di quesito referendario, raccoglieremo le 15.000 firme necessarie e chiederemo ai cittadini di esprimersi sul futuro dell'impianto storico. La convinzione che vada ristrutturato il vecchio stadio spiega senza costruirne uno nuovo. Parole che sicuramente riscuotono grande approvazione, ma di fatto anche mettendo in preventivo una ristrutturazione dell'impianto si andrebbe incontro a numerosi problemi. Utilizzarlo con le impalcature sarebbe piuttosto ostico, completare l'intera opera in una sola estate è praticamente impossibile. Mario Balotelli dopo l'esperienza in Air France al Marsiglia è rimasto svincolato. Ora ha voglia di tornare in campo, l'attaccante italiano è ripreso ad allenarsi sul campo di Castelmella, un paesino di 11.000 abitanti in provincia di Brescia, in attesa di una chiamata da una squadra di Serie A, campionato nel quale vuole tornare a giocare. Negli ultimi giorni sono state tante le voci che lo hanno visto coinvolto, dal Parma fino alla Fiorentina passando per il Genoa. Intanto Balotelli lavora per farsi trovare pronto e va ad allenarsi con un bolide da 200.000 euro, una Nissan GTR Nismo.